Sono Nella Rescigno, socio e presidente di Justmo, impresa culturale e creativa proveniente al Molise. Oggi sono qui a coordinare il tavolo Cultura e Borghi, un tema molto strategico nell'ambito delle politiche di sviluppo locale. Mi aspetto dalla giornata un confronto, incontro serrato, interessante sui tanti temi che riguardano questo tavolo, che sono temi importanti, che sono esplosi tutte insieme nel giro di pochi anni, hanno bisogno di ancora crescere e di trovare miglioramenti nel corso del tempo. Il modello cooperativo ritengo che sia il modello di impresa nell'ambito specifico della cultura, il modello più rispondente alle esigenze del territorio, delle amministrazioni e anche dei tipi di fondi e di risorse che sono a disposizione e del modo di gestire e utilizzare in maniera finalizzata questi fondi, perché siano davvero utili alla crescita del territorio. Credo che nessuna forma di impresa più del modello cooperativo sia rispondente a questi bisogni.